Rappresentanti di tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia, rappresentanti della consulta studentesca provinciali e rappresentanti a retini del Parlamento regionale toscano, insieme nella Sala dei Grandi. La provincia di Arezzo ha così voluto dare un segnale forte a tutti i ragazzi sull'importanza dell'orientamento. Siamo convinti che è necessario lanciare un messaggio, dare un segnale, perché orientare significa prima di tutto, deve significare prima di tutto, auto-orientare. Una giornata così è sicuramente un'opportunità di portare all'interno del nostro istituto, ma in tutta la provincia, una possibilità di un cambiamento, poiché abbiamo raggiunto così un numero molto alto di persone a conoscenza di meravigliosi progetti e che quindi potranno essere attuati nel corso del tempo sicuramente. La provincia aretina ha anche offerto agli studenti e alle studentesse presenti un momento di mindfulness. Lo scopo di questa giornata è quello di cercare di fare un'esperienza con i ragazzi di auto-orientamento, quindi di portare lo sguardo dentro e un attimo lasciare andare lo sguardo fuori, quindi un'esperienza di mindfulness che significa pienezza mentale, quindi permettere ai ragazzi di riconoscere cosa si muove dentro ed accoglierlo senza giudizio. Questo è proprio la mindfulness.